Buonasera e benvenuti a Speciale Elezioni, la trasmissione che Rete8 dedica alle prossime amministrative. Siamo a San Salvo, al Centro Culturale Aldomoro che ci ospita. Sono tre i candidati a sindaco a San Salvo, Giovanni Mariotti, Emanuela De Nicolis, Fabio Travaglini. 12 le liste che li appoggiano. Abbiamo realizzato delle interviste singole. E apriamo la nostra serie di interviste realizzate con i tre candidati a sindaco di San Salvo, con Giovanni Mariotti. Buonasera e benvenuto. Giovanni Mariotti è consigliere comunale uscente ma ha anche esperienza per quanto riguarda la vita amministrativa. Quali sono le liste che l'appoggiano? Intanto buonasera e saluto i telespettatori che ci vedranno in questa trasmissione. ringrazio lei per avermi dato la possibilità di illustrare parte del programma perché abbiamo un tempo limitato per illustrarlo ampiamente. Allora, cominciamo con le liste. Le liste che mi appoggiano sono tre liste prettamente civiche, di cara appartenenza al centro-sinistra perché coloro che sono le persone più rappresentative sono tutte di quell'area del centro-sinistra. Sono persone che naturalmente rappresentano ogni modello della società, soprattutto persone semplici che hanno avuto poca esperienza politica, a parte quelle due o tre persone che naturalmente hanno ricoperto anche un ruolo molto importante a San Salvo come ex sindaci e ex assessori comunali. Per cui naturalmente vado fiero di queste liste perché appunto sono persone che hanno sposato letteralmente un programma amministrativo che guarda solamente al bene di questa comunità. Come nasce la sua candidatura? La mia candidatura nasce da un modo poco democratico nell'unire tutto il centro-sinistra. Cioè nel senso che la scelta del centro-sinistra, quando uno si unisce in una coalizione, le scelte vanno condivise. Naturalmente queste scelte non possono essere forzatamente imposte, ma come ho detto, devono essere condivise. Per cui a noi non ci è piaciuto il metodo di presentare della candidatura del candidato sindaco, diciamo attualmente Travaglini, che naturalmente l'abbiamo visto come un'imposizione. Per cui naturalmente a questo punto abbiamo chiesto democraticamente un modo democratico per rappresentare, cioè le primarie, che sono state naturalmente non abbiamo ricevuto nessuna risposta in merito. Ed ecco perché è nata la mia candidatura. Ora entriamo un po' a trattare vari argomenti. Partiamo da parlare del lavoro. Il lavoro ci fa pensare all'area industriale, che è importante. Il lavoro, io penso che senza lavoro non c'è la dignità di una persona. Per cui naturalmente il lavoro è molto importante. Noi in questi anni, diciamo da molti anni a questa parte, stiamo perdendo lavoro nell'area industriale per tutte le conseguenze che ci sono state naturalmente nel mondo, prima la crisi degli immobili, poi naturalmente la pandemia, adesso la guerra, che mettono naturalmente in serie difficoltà le imprese che naturalmente insistono in questo territorio. Naturalmente il comune deve essere quella forza attraenante, non è che può incidere direttamente sulle politiche del lavoro di queste società, ma deve stare sempre a fianco sia dell'RSU e sia naturalmente delle proprietà per far sì che, diciamo, essere un collante con alcune istituzioni come le istituzioni regionali e nazionali che possano naturalmente fare molto per il lavoro, per le politiche del lavoro. Noi naturalmente possiamo sviluppare, diciamo, in alternativa, oppure chiedere anche naturalmente all'Arap, che è l'azienda regionale per le attività produttive, di rendere più appetibile questo territorio, nel senso di curare meglio le strade, la viabilità, le infrastrutture che possa naturalmente essere, diciamo, un motivo di attrazione per quanto riguarda investimenti futuri, come naturalmente è quello che è avvenuto per Amazon. Amazon ci ha scelto perché naturalmente è un territorio che offre vantaggi infrastrutturali. Ora parliamo del turismo che può essere un altro elemento trainante anche per creare economia, insomma. Il turismo e l'agricoltura sono due realtà che devono entrare per forza in un sistema sia di occupazionale sia economico. Il turismo deve essere naturalmente una forza trainante di una parte importante di San Salvo. Non solo dobbiamo guardare come turismo balneare, ma anche un turismo storico, cioè far lievitare le nostre tradizioni storiche, come la festa di San Vitale, cioè renderla naturalmente visibile all'esterno per poter far sì che un turismo non sia legato solo ad un'azione balneare, ma anche naturalmente ad azioni più ricreative, storiche e non gastronomiche, come naturalmente far rivivere quel collante che San Salvo aveva con la Valle del Trigno. Sono tutte cose che bisogna sviluppare, diciamo, implementare in modo che il turismo venga naturalmente premiato, soprattutto dai turisti. Come? Naturalmente rendendo più bella, più verde soprattutto, perché come abbiamo visto i turisti che vengono dalle nostre parti, turisti soprattutto c'è stato un certo, diciamo, vedere quale è la nazione che più porta turisti in Italia e in questo territorio e abbiamo visto che l'Austria, la Svizzera, la Germania, sono quelle nazioni che più naturalmente vengono in questo terzo. Perché? Perché sono più green. Quindi noi dobbiamo cercare di sviluppare quell'ambiente, quella sostenibilità ambientale che permette al turismo di dire perché devo venire a San Salvo. Un minutino per parlare, anche se poco, un minuto, di giovani e anziani. Allora, i giovani naturalmente sono stati ultimamente un po' naturalmente lasciati all'abbandono, per cui bisogna rivedere delle politiche giovanili. Politiche giovanili importanti non solo da un punto di vista, diciamo, di saper affiancare le scelte naturalmente dei giovani, prima noi avevamo un informa giovani, che informava i giovani su quali erano le prospettive di lavoro. Quindi bisogna ricercare di rimettere questo servizio, nonostante questo e naturalmente affiancare i giovani che naturalmente si ritrovano per strada, questa micro criminalità che abbiamo visto che negli ultimi tempi è tornato in moda, affiancare con degli operatori di strada che possano naturalmente essere articolanti tra i giovani e il comune. Un'idea per gli anziani? Gli anziani sono soprattutto aiutare, soprattutto gli anziani soli. Cioè noi non possiamo far sì che persone, anziani, possono restare da soli e morire nell'anonimato. Quindi bisogna contattarli, bisogna trovare un metodo per stare vicini agli anziani, soprattutto quelli soli. Se dovesse essere lei il futuro sindaco di San Salvo, la prima cosa che si metterà a fare? La prima cosa è cercare di rigenerare il centro storico, perché un centro credo che sia il cuore punzalto di una comunità. Senza un centro non esiste una comunità, sia naturalmente sociale, sia naturalmente economica. Quindi il primo sguardo sarà rivolto veramente verso il centro. Bene, ringraziamo Giovanni Mariotti, candidato a sindaco a San Salvo, ed andiamo avanti. Buonasera a Emanuela De Nicolis, consigliera comunale di maggioranza uscente, anzi capogruppo di una lista civica di maggioranza. Allora, ci presenti un po' le liste che la sostengono. Buonasera, grazie per l'invito. Allora, la squadra è composta da quattro liste civiche, tutte di area, ma comunque liste civiche. Molte comprendono amministratori uscenti. e altre, insomma, volti nuovi. Le liste sono San Salvo Città Nuova, che è capitanata proprio dal sindaco uscente Tiziana Magnacca, che si rimette a servizio della collettività e si ricandida come consigliere comunale per questa città. Altri assessori uscenti che fanno parte di questa lista e consiglieri comunali già uscenti della maggioranza, più volti nuovi. Poi l'altra lista che ha già partecipato a precedenti competizioni elettorali è la lista popolare. Anche questa capitanata dal presidente del consiglio uscente, Eugenio Spadano, e da una consigliera comunale uscente, Marina Sarchione, più tanti volti nuovi. Poi c'è la lista che ho formato io, San Salvo è la lista del girasole, con due consiglieri comunali uscenti e altre persone nuove che si approcciano per la prima volta a questa esperienza. E l'ultima lista, Noi San Salvo, capitanata da Giancarlo Lippis, vice sindaco anche lui uscente, e l'assessore Marinelli. Gli altri sono tutti volti nuovi. Insomma sono molto felice perché sono tutti molto rappresentativi del territorio, molto rappresentativi di San Salvo, giovani, meno giovani, donne, uomini, tutti, ripeto, molto rappresentativi della città. E la sua candidatura come nasce? La mia candidatura nasce fuori proprio dal gruppo di maggioranza. Quindi il gruppo di maggioranza, dopo un'ampia riflessione, ha deciso che fossi io la persona più idonea per rappresentare questa città e io ho accettato. Con lo stesso spirito di servizio con cui mi sono messa a disposizione cinque anni fa, quando mi sono candidata come consigliere comunale a sostegno di Tiziana Magnacca al secondo mandato, questa volta ho deciso, visto che il gruppo aveva ritenuto che fossi io la persona più idonea e ho deciso di accettare, proprio per l'amore profondo e per il legame profondo che ho con questa città. Parliamo del futuro di San Salvo. Il futuro passa anche spesso per il lavoro e San Salvo ha un bel polo industriale. Sì, San Salvo ha un grande polo industriale, negli ultimi anni è cresciuta tantissimo, è il secondo polo industriale di tutta la regione Abruzzo. Sicuramente ha risentito della crisi dell'automotivo, una crisi più grande di noi e qui ci sono delle politiche ovviamente di dialogo, delle politiche del lavoro che seppur non di stretta competenza comunale abbiamo cercato di attuare con gli enti sovracomunali. E poi l'altra grande notizia che riguarda il lavoro e che riguarda San Salvo è l'arrivo di Amazon sul territorio, ormai è una realtà in prossima apertura, l'amministrazione uscente ci ha lavorato tanto, Amazon ha ritenuto questo territorio più attrattivo di altri e oggi quindi possiamo dire, possiamo garantire lavoro ai giovani e a tutti coloro che probabilmente dovranno essere purtroppo ricollocati dalle realtà già esistenti. Ebbene, dal futuro non possiamo non parlare del turismo che è un altro argomento forte anche di questa campagna elettorale. Certo, certamente. La nostra è una città multidimensionale, quindi non solo siamo una città prettamente agricola, dalle origini agricole, poi industrializzata, per cui ripeto la nostra zona industriale è una delle più attive del territorio, ma è anche una città turistica, fortemente turistica, per cui investiremo molto, continueremo ad investire molto sul turismo, già è stato fatto tanto in questi dieci anni di amministrazione, anzi abbiamo buttato le basi perché c'è già un finanziamento attivo, quindi concreto, per il rifacimento di tutto il lungomare, di una parte del lungomare dell'area pedonale, del lungomare di San Salvo Marina, proseguiremo in questa direzione, quindi con la riqualificazione urbanistica del nostro lungomare che sarà una delle principali attrattive poi per il nostro territorio. Abbiamo una posizione strategica, confine tra due regioni, Abruzzo e Molise e questa è stata e continuerà ad essere la nostra forza, dovremo continuare ad implementare tutti i servizi che appunto ci renderanno ancora più attrattivi. Le piste ciclopedonali, ne abbiamo fatto un fiore all'occhiello, con l'amministrazione Magnacca le piste ciclopedonali sono state realizzate non solo quella sul lungomare ma anche quella a pettine di collegamento con il centro, proseguiremo così anche per implementare il cicloturismo che è una realtà ormai sempre più attiva, abbiamo potenziato anche i collegamenti ferroviari proprio per il trasporto di bici sui treni. Ma non solo, il turismo per noi sarà anche riqualificazione del centro storico e anche qui c'è un progetto proprio che prevede la riqualificazione del centro, abbiamo utilizzato una parola chiave nel nostro programma che è bellezza, quindi con la bellezza, con la riqualificazione, con la valorizzazione del centro storico e di quelle che sono le nostre realtà paesaggistiche, cercheremo di essere sempre più attrattivi e di fare un turismo di qualità. Ecco, visto che lei ha parlato anche di questo turismo più attrattivo, parliamo anche dei giovani, insomma gli spazi per i giovani, entriamo in questo argomento. Certo, San Salvo tra l'altro è una delle città più giovani dell'Abruzzo, per cui abbiamo tanti giovani, dobbiamo certamente implementare le politiche giovanili, questo sarà un altro obiettivo che ci siamo posti nel programma elettorale. Cercheremo sicuramente di implementare quelli che sono gli spazi che i giovani potranno avere destinati proprio alla valorizzazione di quelli che sono i loro momenti. Implementazione della cultura, perché sappiamo bene che cultura equivale a bellezza, implementare cultura significa creare i cittadini di domani più liberi, quindi sicuramente abbiamo destinato molta attenzione ad implementare appunto la cultura e tutto ciò che c'è intorno e degli spazi da destinare ai giovani. Per questo abbiamo pensato anche di riqualificare quello che è il teatro comunale, per il quale questa amministrazione ha già fatto qualcosa con la riqualificazione di spazi interni e soprattutto l'area esterna con l'anfiteatro e il collegamento con la villa. L'obiettivo sarà quello di aprirlo definitivamente questo teatro, farlo diventare un polo culturale da destinare ai giovani. Bene, ha ancora un tre minuti da utilizzare, diciamo così, in questo spazio che abbiamo dedicato a lei. Se dovesse essere letta, le prime cose che si metterà a fare per San Salvo? Ci sono tantissime cose. Molti sono proprio in divenire con questa amministrazione, quindi noi saremo un'amministrazione in continuità. Non perderemo tempo, abbiamo già tanti progetti finanziati e quindi partiremo da quelli, da quelli per cui ci sono già i fondi. Il lungomare di San Salvo Marina, ne ho parlato prima, quindi cercheremo di proseguire questa riqualificazione di tutto il lungomare. I quartieri, abbiamo tanti quartieri da riqualificare con l'eliminazione delle barriere architettoniche, rifacimento degli asfalti, dell'illuminazione, dei marsciapiedi. Anche qui ci sono tanti fondi già attivi, già che abbiamo reperito. E sicuramente il centro storico, sempre per un'ottica di implementazione del turismo. Saranno queste le prime cose a cui mi dedicherò. Ha qualche idea sulla squadra di governo, se dovesse essere letta? No, assolutamente no. Non c'è stato nessun accordo, né nessuna idea, perché premierò sicuramente il risultato elettorale, oltre che le competenze. Faccio il mio appello ai cittadini sansalvesi, ai concittadini sansalvesi. E chiedo loro di darci ancora fiducia, perché sansalvo negli ultimi dieci anni è cresciuta, è cresciuta tanto. E allora proseguiamo così. Continuiamo ad essere cittadini ambiziosi, lungimiranti, con una visione del futuro. Continuiamo a credere nelle capacità di questi uomini e queste donne che hanno amministrato in questi dieci anni, che continueranno a farlo, perché credono tanto in questa città. Abbiamo parlato dei giovani. Vogliamo dire qualcosa anche per gli anziani, a conclusione? Certo. Per le fasce deboli. Certo, anche sugli anziani c'è proprio un capitolo che ho dedicato nel mio programma, proprio sotto la voce dell'aggregazione e dell'educazione. Gli anziani saranno fondamentali. Già l'amministrazione uscente ha dedicato loro molta importanza, perché loro sono le radici, la nostra forza anche per le future generazioni. E allora nel mio programma continueremo ad implementare tutte quelle che sono le attività di svago per i nostri anziani, noi abbiamo già due centri anziani in città e loro sono molto attivi anche per tutto quello che riguarda il sociale. E proseguiremo con una rete, l'obiettivo è quello di realizzare proprio una rete di collegamento tra le scuole e le persone più anziane, in modo tale anche da tramandare tutta una serie di valori, di valori importanti, e renderli in comunicazione tra di loro. Quindi da una parte gli anziani potranno tramandare ai nostri giovani i valori, le tradizioni. Abbiamo visto alla festa di San Vitale tantissimi giovani che hanno proseguito quelle che sono le tradizioni della città, grazie ai racconti che hanno fatto loro gli anziani. Dall'altro i giovani potranno magari digitalizzare tutta quella che è la memoria storica data dagli anziani. Quindi tanta importanza proseguiremo in questa direzione. Ringraziamo Emanuela De Nicolis che, ricordiamo, è candidata sindaco a San Salvo. Ed ora siamo con Fabio Travaglini, candidato sindaco a San Salvo, per concludere queste interviste singole che stiamo realizzando in speciale elezioni. Fabio Travaglini, consigliere comunale uscente, quali sono le liste che l'appoggiano? Buonasera a voi, buonasera ai telespettatori. Noi abbiamo costruito una coalizione che parte dalla minoranza in consiglio comunale uscente, una minoranza di centrosinistra che fa capo al Partito Democratico e a due liste civiche. La coalizione si è via via allargata con un lavoro che abbiamo fatto dal mese di luglio dell'anno scorso, quando è stata presentata la nostra coalizione, ed oggi è composta da cinque liste. Due liste fanno riferimento a partiti nazionali, è la lista del Partito Democratico, e la lista che torna a San Salvo dopo un periodo di assenza, la lista del Partito Socialista Italiano. E poi abbiamo tre civiche che sono molto variegate. Una lista civica, che è quella che si direbbe del candidato sindaco, la lista più San Salvo, raccoglie le esperienze della mia consigliatura insieme alla consigliera Marica Bolognese. È una lista civica che fa riferimento all'area moderata e al civismo avanzato, e raccoglie molte esperienze e competenze della cosiddetta società civile. Poi abbiamo una lista civica che fa riferimento alla sinistra, si chiama Sinistra Civica Ecologista, che è promossa da due partiti nazionali, Articolo 1 e Sinistra Italiana, e si è allargata con tanti giovani, anche con una grande sensibilità ambientalista, rispetto anche agli obiettivi dello sviluppo sostenibile. E poi l'ultima arrivata è la lista di azione politica, una lista che fa riferimento al Partito Popolare Europeo, e che si è arricchita anche di componenti dell'attuale maggioranza uscente, che in dissenso, perché è stato un metodo che loro non hanno accettato su diversi aspetti, hanno deciso di sostenere convintamente il nostro progetto. La sua candidatura come nasce? La mia candidatura nasce dopo una lunga riflessione, un lavoro svolto in Consiglio Comunale di grande attenzione ed ascolto, e a luglio dell'anno scorso, il 29 luglio precisamente, una serie di liste e partiti, alcuni dei quali ho già citato, hanno lanciato questo progetto. Un progetto che si propone di fare una cosa semplice, ascoltare i cittadini, tant'è vero che siamo gli unici ad aver proposto un programma partecipato. Abbiamo attivato già dal mese di settembre una piattaforma online, dove è stato possibile per i cittadini consigliarci idee, progetti, proposte sul programma, che poi è arrivato a presentazione in questo mese ed è un programma fatto dai cittadini che noi ci impegneremo a realizzare in tutti i suoi punti. Un programma semplice, di 13 punti, ma molto efficace. Parliamo un po' di San Salvo, che ha sì il mare, quindi si penserebbe subito al turismo, ma partiamo con il parlare dell'area industriale, perché lì è il lavoro. Quest'anno ricorre una data importante per noi. Ricorrono i 60 anni dell'apertura della società italiana vetro, oggi Pilkington. Il 62 per San Salvo è stata una data molto importante perché ha visto una tempesta di idee, una tempesta di azioni positive che hanno portato, dopo la venuta della SIV, il territorio a mobilitarsi, a far nascere gli istituti tecnici superiori, le scuole di formazione, a far nascere le grandi infrastrutture che fino ad oggi hanno portato lo sviluppo e a portare San Salvo, che era un piccolo borgo di circa 2.000 abitanti, alla città di 20.000 abitanti che è oggi. Ci troviamo in un momento, dopo 60 anni, di grandi cambiamenti economici, di grandi stravolgimenti, anche grandi preoccupazioni e paure delle persone. Abbiamo delle notizie positive, la venuta di Amazon, qualche altro intervento, aziende che hanno bisogno di sostegno, ma manca quella stagione positiva che ci fu nel 62. Manca una visione strategica della nostra zona industriale, manca uscire dall'individualismo che ci attanaglia in questi anni. Il Comune di San Salvo purtroppo si è isolato, si è isolato perché non dialoga più con le istituzioni, ma soprattutto non ha una visione di politica industriale. Una politica industriale che deve tutelare e proteggere le aziende esistenti, cercare nuovi investimenti, ma pensare anche al benessere dei cittadini, alla qualità dell'ambiente, alla qualità dell'aria, e a capire dove, con le nuove tecnologie, con i nuovi investimenti che potranno esserci a San Salvo, garantire un futuro ai nostri giovani che non devono andare via e soprattutto a chi già lavora, che deve essere tutelato fino alla pensione. Il turismo anche può essere occasione di lavoro. Per quanto riguarda il turismo, cosa prevede? Il turismo oggi conta a San Salvo circa il 5% della nostra economia, ma con la splendida costa che abbiamo, unita anche a tutto il territorio dell'entroterra, che, voglio ricordare, fa da cornice a San Salvo, e San Salvo ne è il capofila ed anche il garante di una grande area della Valle del Trigno che arriva fino a Castiglione, Messermarino e Dagnone. Il turismo può aumentare, può essere un'occasione di lavoro e di sviluppo per i nostri cittadini, ma dobbiamo ritrovare una capacità promozionale, dobbiamo ritrovare capacità di collocazione turistica, aprirci ai mercati esteri, insomma alzare il livello del nostro turismo. I nostri albergatori, i nostri bagnatori fanno un lavoro in mane e li ringraziamo insieme ai ristoratori e agli operatori della ricezione, ma oggi anche loro, anche il privato, ha bisogno di uno scatto in più da parte del pubblico e in questo il nostro programma si propone proprio come partner di quelle attività, si propone come partner del territorio, in unione con i comuni del territorio. Noi abbiamo proposto, per esempio, il cartellone unico della Valle del Trigno, degli eventi, abbiamo proposto delle operazioni anche sulla ricettività di tutta l'area, perché se noi guardiamo oltre i confini di San Salvo possiamo essere davvero vincenti. Giovani e anziani, ecco, due categorie, affrontiamo questo argomento, due categorie per le quali deve esserci attenzione sempre. Giovani e anziani richiamano innanzitutto due temi. Uno, il tema della cultura, che a San Salvo è andata via via decadendo. Oltre il luogo che ci ospita, noi abbiamo una grande necessità di ritrovare spazi di aggregazione culturale, a cominciare dal vecchio teatro comunale. Lo chiamo vecchio perché è un'opera appaltata e costruita vent'anni fa, mai completata dalle amministrazioni precedenti, di qualsiasi colore, e che oggi è un patrimonio pubblico all'abbandono. Noi da lì vogliamo far rinascere, insieme al Centro Servizi Culturali, un grande polo attrattivo che sappia valorizzare la cultura, che sappia valorizzare i nostri talenti. Tanti artisti, tanti musicisti, tanti ragazzi che, anche con le nuove tecnologie, hanno possibilità di esprimersi a livello culturale, non sanno dove incontrarsi. E poi il tema degli anziani richiama un'emergenza a San Salvo, che è quella delle politiche sociali. Le politiche sociali a San Salvo si fanno come si facevano negli anni Ottanta, perché non ci stiamo aprendo alle innovazioni anche in quel settore. Mi riferisco per esempio alla coprogettazione, alla coprogrammazione con il terzo settore. Abbiamo tante associazioni che nel privato riescono a fornire dei servizi, ma manca il pubblico. Dobbiamo uscire anche dal sistema delle cooperative a cui il Comune affida i servizi. Noi dobbiamo aumentare la capacità del Comune di controllare meglio le politiche sociali, ma soprattutto di garantire a tutti il massimo del servizio. Per concludere, se dovesse essere eletto sindaco, su che cosa si metterà subito al lavoro? Io fin dal primo giorno mi metterò al lavoro per valorizzare il Consiglio Comunale. E mi spiego meglio. Noi abbiamo necessità di valorizzare e di dare un ruolo a tutti i consiglieri comunali, perché sono loro il vero motore e soprattutto il vero contatto che abbiamo con i cittadini. Per troppo tempo abbiamo assistito a consigli comunali silenti, dove si alza soltanto la mano. Noi daremo una delega ad ogni consigliere, ed ogni consigliere nel suo piccolo potrà contribuire a far rinascere San Salvo. con le sue competenze e con le sue deleghe. Ancora un minuto se lo può sfruttare per continuare l'argomento. Ovviamente questo ci servirà per riprogrammare un nuovo assetto, una nuova strategia per San Salvo, e soprattutto per tornare a far essere il Comune una sentinella di tutti i quartieri. Per noi tutti i quartieri saranno importanti, a cominciare dalla piccola manutenzione, a cominciare dai marciapiedi che mancano, a cominciare dalla fruibilità dei quartieri, perché molti cittadini ce lo segnalano e tutti i cittadini meritano di vivere in un quartiere che ha tutti i servizi degli altri quartieri per una grande città che può essere e continuare ad essere San Salvo. Bene, ringraziamo Fabio Travaglini, candidato sindaco a San Salvo, e ringraziamo anche voi per averci seguito in questo speciale Elezioni dedicato appunto alle elezioni comunali di San Salvo. Grazie.